Intervallo, intervallo a Pavia, 7.50, Rieti deve già fuori ancora con X, che non la mette, cittadini a rimbalzo, Bonora. 5.155, Rieti a più 4, Pavia è sempre a più 10. Sì, Emanuele, con portanti, positivissime notizie che arrivano dalla Palavizza, dove la Edimesfadia continua a condurre i 10 punti sulla Pepsi Caserta, anche grazie ad un'ottima prestazione di Simone Bagnoli. Ora, Emanuele, l'attenzione deve tornare necessariamente a concentrarsi su questa partita, che sta diventando negli ultimi minuti finali una vera e propria lotta. Lotta, lotta. Più uno Rieti, Smith, Smith, palleggia, cadono in due, Prato e Bonora, si rilassano entrambi. Prato e Bonora, Bonora, Cittadini, e c'è Cittadini, così Rieti, 4 punti, di là Caserta è sempre a meno 6. Bonora, Prato si alza da 3, la credza, la credza di Prato, più 6 Rieti, ma che fatica, che fatica. Che sofferenza. Non va, non va, più 7 Pavia, più 7 Pavia, Rieti deve vincere, Rieti deve vincere, più 7 Pavia, Cesaro, X da 3, non va, non è il rivolto. 1.17, Pavia, più 7, Rieti deve vincere questa partita. Rieti deve vincere questa partita. E Pavia è alti di 6, Pavia è alti di 6, Rieti non può perdere ora. 70 a 70, 20 secondi al termine, con paria, sempre sopra di 6, con meno di 2 minuti dalla fine. Rimessa di Prato, palla a Melvin, la perde, la recupera, Prato. Rosselli, no, no, la perde, la perde, la perde Rosselli, no, non così, non così, 10 secondi. Pesa dall'ultimo tiro, pesa dall'ultimo tiro, fino alla fine presa allora. La perde, la perde, è finita, è finita, è finita, supplementare. 81 a 77, 81 a 77 a Pavia, 81 a 77 a Pavia, supplementare Rieti, supplementare Rieti, supplementare qui per Rieti. supplementare per Rieti. Ha perso, ha perso, Caserta ha perso, Caserta ha perso, dai Rieti adesso. Caserta ha perso, forza Rieti, Prato, più nel mondo, la 2, non va. La recuperata, bravo! Rieti, dai Prato, ha perso Caserta, dai, 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 dai. Caserta ha perso, preso, 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 preso. Riprendi il gioco, Sonora, Spirce, da 3, si alza, non va. Rieti, Miss, che mi parte l'ora della partita. Miss, e gli si la palla, Spirce, gli si la palla, 10 secondi. Miss, la perde, la perde, la perde, la perde. Miss, la perde, 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 la perde. Teniamo palla. Rieti, dovete dare la palla, solo 3 secondi. 2, 1, la tiene, palla, palla, 2 secondi. 2 secondi e 50. 2 secondi e 50, Rieti è liberi. Caserta ha perso, ha perso la famiglia, a 2 e 50. Saracchene, Svitter, sbaglia il primo, Svitter, sbaglia il primo. Svitter, mette il secondo, Svitter. 1,80, 1,80, un secondo e 80, un secondo e 80. Assurdo, un secondo e 80, poi la pesano. Rieti a più 2, 7, 5, 7, 3. Assurdo, un secondo e 80. Un secondo e 80, un secondo e 3. Non lo mette, è serio! 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 Assurdo! Assurdo, Antonio, pazzesco! Pazzesco! È serio! È festa sugli sparti! È stata festa in città tutta la notte! È stata festa domani! Assurdo! È serio! È serio! È serio! È serio! È sicuro! È serio! È sicuro! È sen Espero! È assurdo! È 혹시 guru! Assurdo, assurdo la mia fatezza! Ito poco, pasando! È sansalito! È sicuro! È sicuro! È sicuro! È sicuro! È sicuro! Vibhia!